Fammi indovinare, ti senti fuori forma, bloccata e hai mal di schiena? Ti svelo 4 consigli per rimetterti in forma. Rinforza il core e i muscoli profondi dell'addome con un focus sulla respirazione e il controllo. Core forte, schiena felice. Consiglio numero 2, allena i glutei perché glutei forti sorreggono i lombari, quindi glutei forti meno dolore. Integra esercizi di stabilizzazione per migliorare l'equilibrio e proteggere la schiena. Stabilizza, rinforza, migliora. Consiglio numero 4, unisciti al metodo Mandala e accedi al mio videocorso Fit Starter, la tua Poké Gym. Allenati quando, dove e come vuoi. Troverai questi esercizi e molti altri per tornare a sprizzare energia da tutti i pori. Non perdere questa occasione unica, clicca subito e ricevi due regali esclusivi. 1. Accedi gratuitamente alla prima lezione del mio videocorso Fit Starter, la tua Poké Gym. E 2. Ricevi un coupon sconto del 35% sul prezzo di listino direttamente nella tua email il giorno del lancio. La tua schiena ti ringrazierà.